Pier Silvio Berlusconi ha voluto ricordare Carlotta Dessy, la giornalista media se scomparsa a 35 anni non ancora con più. La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo dell'informazione, soprattutto del Biscione, dove da anni lavorava anche come inviata di trasmissioni come Pomeriggio 5 e fuori dall'ultima volta che ho salutato Carlotta sono rimasto immediatamente colpito dal suo fantastico sorriso, ha dichiarato Berlusconi. Mi ha scaldato il cuore e con poche parole mi ha trasmesso il suo grande coraggio e un senso di appartenenza esemplare alla nostra famiglia. Aveva fatto di tutto per partecipare al nostro brindisi natalizio, nonostante le sue delicatissime condizioni. Sono rimasto folgorato dalla sua forza e dal suo in questo momento di grande dolore. Stringo in un forte abbraccio i suoi genitori, il suo compagno e tutti i suoi. Carlotta attraverso lo spirito con cui ha affrontato il dolore mi ha dato, ci ha dato, un grande insieme sarà per sempre nei nostri ricordi. Il messaggio di Pier Silvio si conclude poi con un tenero saluto. Dolce Carlotta, ti mando un abbraccio infinito con tutto il mio cuore.